Ciao a tutti, sono Paul di Solis. Oggi vi parlerò di un altro metodo per configurare i data logger e mettere online il vostro inverter per monitorarlo. Questo per ricollegarmi al video di configurazione tramite applicazione Solis Cloud. Con l'applicazione mobile non è possibile configurare i nostri vecchi datalogger DLS, quindi mostrerò un metodo che spesso chiamiamo metodo 10.10.100.254 o metodo del browser per configurare i data logger. Per prima cosa è necessario collegare il data logger alla parte inferiore dell'inverter nell'unica porta adatta, la porta verde. Mostrerò questo metodo sul nuovo datalogger S3, però è applicabile anche su questo DLS. In realtà è un po' più facile su questo perché il DLS non ha password, mentre l'S3 sì. La password è 123456789. Quindi collegando questo dispositivo alla parte inferiore dell'inverter vedrete che si accende a condizione che l'inverter sia alimentato, quindi riceve l'alimentazione per il data logger dall'inverter e questo vale per gli inverter di stringa, gli inverter ibridi e gli EPM. Ed ecco che non appena si crea un buon contatto inizia ad alimentare il LED rosso che rappresenta l'alimentazione. Ci sono tre LED su questo data logger, l'alimentazione, la comunicazione che rappresentano la comunicazione tra inverter e data logger ed infine la rete che indica se il data logger è collegato a internet o meno. In questo caso è collegato ed alimentato dall'inverter. Questo data logger è già configurato, ha tutti e tre i LED funzionanti, quindi è in perfetto stato. Vogliamo resettare il data logger per poter rifare la configurazione. Tenete premuto il pulsante sul retro del data logger per 10 secondi e passa al primo stato di lampeggiamento rapido che è in modalità di configurazione e poi diventa completamente spento e quindi si sa che è in modalità di reset. Ora non dovrebbe connettersi alla rete wifi che si trova in questo edificio, dovrebbe rimanere offline e non comunicare con Solis Cloud. Ok, l'impostazione del data logger con il suo SSD e la sua password si effettua tramite qualsiasi dispositivo, quindi questo è un dispositivo Apple, funziona con Android, funziona con i portatili Windows, funziona con i tablet. In sostanza è necessario assicurarsi di connettersi alla rete wifi del data logger, assicurarsi di non avere reti wifi online o di altro tipo di cui il telefono sia a conoscenza o che il dispositivo abbia internet. Per farlo su Apple basta andare nelle impostazioni wifi, premere I sulla rete wifi e poi si fa clic sulla parte superiore, dimentica questa rete e si preme dimentica. Su Android è altrettanto facile, su Windows è estremamente facile, quindi basta assicurarsi che il telefono non conosca altre reti wifi o che si connetta automaticamente ad altre reti wifi con internet, quindi ci si collega alla rete che ospita il data logger per configurarlo e fornirgli i dati wifi della casa del cliente. La password predefinita per il data logger va da 1 a 9, quindi si clicca su password e poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e poi si preme join in alto a destra e dovrebbe connettersi a questa rete. Il dispositivo indica che non c'è internet ed è corretto dato che non abbiamo configurato una rete wifi con internet, quindi apparirà il messaggio che dice che non c'è connessione e questo è il motivo per cui è così importante dimenticare le altre reti, perché ciò che molti dei nostri dispositivi faranno è abbandonare la rete wifi per collegarsi a quella con internet. Quindi aprite un browser, può essere qualsiasi browser e digitate l'indirizzo ip 10.10.100.254 e si aprirà l'intrefaccia del data logger. Nome utente è admin minuscolo e la password è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se vi state collegando a questa pagina web per la prima volta vi verranno richiesti il nome utente e la password e il nome utente è admin, mentre la password è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ci sono un paio di opzioni diverse e quella che ci interessa al momento è quickset, quindi premete quickset, ingrandire un po' per vederlo meglio e quella in alto è l'SSD, quindi cercheremo le reti wifi disponibili che il data logger può vedere, vogliamo connetterci a Solis Office, ma qui dovreste selezionare la rete wifi del cliente, quindi qualsiasi rete wifi che abbia internet e di cui avete i dettagli è quella che dovreste selezionare, quindi selezionate quella rete, premete ok, digitate il campo successivo che chiede la password della rete, quindi la password della nostra rete è inverters. È molto importante che la password sia corretta, in caso di errori di battitura o simili non darebbe un errore ma non si connetterebbe, quindi ecco scorrere, guardare la serie di opzioni successive, possiamo ottenere l'indirizzo IP automaticamente, nella maggior parte dei casi vorrete lasciarlo abilitato, ma potete disabilitarlo e impostare un IP statico, quindi premere salva e poi viene visualizzato un messaggio, attendere 10 secondi per la connessione del data logger che dovrebbe connettersi alla rete internet del cliente e quindi connettersi a Solis Cloud e fornire i dati dell'inverter in modo da poterli vedere sul portale, da notare che questo processo è completamente indipendente dalla creazione di un impianto e dall'aggiunta di un numero di serie del data logger. Queste sono due cose separate che possono essere eseguite in momenti diversi. Grazie.